Buonasera, benvenuti a questi tre giorni, inizia così tra un po' di trambusto per la verdura, per le connessioni, questi incontri. Finalmente riusciamo a trovarci, stiamo lavorando con Bruno da diversi mesi, abbiamo prodotto due antologie di cui una domani sera, che in qualche modo troverà, adottano la poesia, adottano la poesia che abbiamo lanciato nel settimana realista, c'è stata una votazione, premiamo i vincitori. La location è di tutto particolare, la location è importante, dovrebbe essere la casa della cultura del comune, del comune di Ischia, che è un saluto istituzionale della Marche dei Capitati, poi cominciamo con quello che è il programma che ci siamo già stati.